Tutto il contrario di tutto, il bello in questo caso del calcio. Dopo aver dato per perso Salamon nella serata di ieri, ecco il clamoroso dietro front. Il giocatore polacco tornerà a vestire la casacca bianca-azzurra. Il giocatore della Sampdoria detto no al trasferimento al Cesena che era cosa fatta, chiedendo ai blucerchiati di trasferirsi invece in Abruzzo. Una volta saputo dal suo agente dell'accordo fra i genovesi e i romagnoli, il 24enne ha fatto saltare tutto optando per la maglia del Pescara. Una scelta di cuore quella del polacco che ha voluto con questa decisione di coerenza, anche dire grazie alla società bianca-azzurra che l'anno scorso lo aveva rilanciato dopo un periodo non facile. Lunedì Salamon sarà a Pescara per la firma del contratto. Con il ritorno del forte difensore, Oddo può tirare un sospiro di sollievo e sistemare la retroguardia che con Ciosic infortunato ed in partenza, Bunoza in ripresa e Grillo e Pesoli sulla via della cessione, può essere ancora più che competitiva. Ora si potrà puntare senza mezzi termini all'attaccante. I dirigenti bianca-azzurri hanno la parola dell'Atalanta su Boacì. Se il giocatore non rientrerà nei piani tecnici della prossima Serie A dei Nerazzurri così come sembra, si trasferirà in riva all'Adriatico. Con la società orobica resta aperto anche il discorso per Cristiano Delgrosso e per il centrocampista Giorgi. Sul fronte cessioni tanto fumo ma al momento poco arrosto. Milicevic interessa il Catanzaro che segue anche Barbuti. Il Trapani guarda da lontano Nielsen mentre il Catania che giocherà ormai è certo in Lega Pro ha fatto un sondaggio per Fabrizio Grillo ed Emanuele Pesoli. Per Memushai all'Empoli siamo alle solite indiscrezioni. Sabato intanto il Pescara tornerà in campo alle 17 a Cepagatti per affrontare in amichevole la Torre Alex. Mercoledì 26 a Roseto i bianca-azzurri giocheranno con il San Nicolò ed il 29 alle 20.30 all'Adriatico sfida con l'Aquila di Perrone.